Essere una donna vigile del fuoco e affrontare ogni giorno una sfida diversa. Zero monotonia e sedentarietà, discrete dosi di adrenalina, tantissime emozioni nel lavoro di squadra. Non conta solo quello che sai fare, ma anche e forse soprattutto quello che sei. Perché da sempre amato questa divisa per le soddisfazioni e la gratitudine che ricevo quotidianamente. Aiutare gli altri, ma noi lo facciamo sempre col sorriso. Non lo cambierai con nessun altro mestiere al mondo.